Il TAR ha accolto il ricorso incidentale della sopintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, sospendendo in via a cautelare gli effetti della delibera approvata dal Consiglio Comunale il 14 ottobre scorso e riguardante l'annullamento delle deliberazioni consigliari dell'11 aprile del 2019, del febbraio 2018 e del dicembre 2016 relativa alla ricostruzione dei centri storici del Comune dell'Aquila. L'estate scorsa il TAR aveva accolto già la proposta della sopintendenza di sospendere in via a cautelare gli effetti della delibera del Consiglio Comunale dell'aprile scorso riguardante l'approvazione definitiva della variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore voluta dall'assessore all'urbanistica Daniele Ferella e contestatissima non solo dalle opposizioni ma anche dai comitati delle frazioni che la ritenevano una variante che avrebbe distrutto l'impianto urbanistico antico dei centri storici dell'Aquila. Ferella in un duro braccio di ferro con la sopintendenza aveva deciso di ritirare l'intero iter amministrativo di variante avviato con la deliberazione consigliare firmata dall'ex assessore alla ricostruzione Piero Di Stefano e adottata dal Consiglio Comunale del 2016 di concerto con la sopintendenza. Tornando in questo modo al piano regolatore del 1975, ora un ennesimo colpo di scena e le opposizioni di centrosinistra chiedono le dimissioni dell'assessore Ferella pronto dal canto suo alla contromossa. Bisogna prendere atto di un fallimento, l'ordinanza del TAR è chiaro che mette un punto su tutta l'azione politica della giunta di centrodestra e ci riporta a quelle che erano le deliberazioni della giunta cialente a dimostrazione che la presunzione amministrativa non porta da nessuna parte e che bisogna invece fare un'analisi attenta del territorio e degli atti amministrativi che si sottopongono. Tutto torna al 2016 a dimostrazione che non c'è programmazione. Ovviamente non mi aspettavo nulla di diverso da un'opposizione se non gioire del fatto che questa sospensiva continua a creare problemi sulla ricostruzione delle frazioni. La vecchia maggioranza oggi rappresentata da questa minoranza ha bloccato scientificamente la ricostruzione delle frazioni quindi non possono che continuare su questa linea. Come stiamo valutando questo lo valuterà in realtà più il dirigente dell'avvocatura se opporre un appello al consiglio di stato insomma ai gradi superiori per diciamo chiedere l'annullamento della sospensiva però anche fosse attenderemo la valutazione nel merito non abbiamo paura.